La base è in fermento, le chat sono incandescenti ed i mugugni si stanno trasformando in urla, anche se per ora restano ben chiuse tra le quattro mura. Nel nuovo governo Draghi la Liga Veneta esce bastonata, un solo ministro peraltro senza portafoglio e nessun sottosegretario, eppure ci avevano fatto conto fino all'ultimo. Massimo Bitonci era dato praticamente per certo all'economia ed erano buone pure le quotazioni di Franco Manzato, già sottosegretario del governo Conte 1. Invece niente, la regione più leghista di tutta è rimasta praticamente a bocca asciutta. La Lombardia, dove in termini di voti la Lega ha percentuali ben diverse, ha portato a casa due ministri e tre sottosegretari, ma anche Liguria ed Emilia hanno avuto soddisfazione maggiore e certo non bastano le lontane origini venete del laziale Durigonna a far sorridere i militanti della Liga, che si sentono sempre più penalizzati nella nuova Lega di Salvini. Rabbia e malumori che se i più fanno circolare per ora sotto traccia non zittiscono l'ex segretario regionale ora europarlamentare Gian Antonio Darè, che forte dell'ormai lunga carriera non teme di attaccare il commissario Alberto Stefani, fedelissimo di Salvini. Scontiamo l'inesperienza del nostro commissario, dice Darè, il peso della Lega in Veneto non è stato fatto fruttare nelle nomine dei sottosegretari. E Darè furibondo si ferma qui lasciando intendere che in Veneto la misura è colba, anche se nessuno ha il coraggio di gridarlo a piena voce, chiedendo ufficialmente un congresso regionale per archiviare una volta per tutte la stagione del commissariamento.